L'ordinanza con cui il ministro Speranza autorizza i cittadini svizzeri residenti entro i 60 chilometri dal confine ad entrare in Italia per 24 ore senza doversi sottoporre a tampone, se da un lato ha dato una boccata di ossigeno all'economia frontaliera, dall'altro ha innescato un caso politico. Al centro del dibattito romano la paternità del provvedimento. Alla Lega, che ieri si è intestata la primogenitura del provvedimento, risponde oggi il PD. I DEM l'hanno ribattezzata con il nome di Operazione Verità. Ad intestarsi la battaglia odierna è la capogruppo PD alla Camera dei Deputati Serracchiani. Solo grazie all'impegno dei parlamentari PD e al dialogo con il ministro Speranza sono venute meno le restrizioni per chi abita vicino al confine. Caro Matteo Salvini, scrive la DEM, le tue chiacchiere stanno a zero e agli annunci della Lega noi rispondiamo con i fatti concreti. Al post su Facebook la deputata fa seguire copia della lettera inviata al titolare del Dicastero della Salute il 20 maggio scorso, a firma della stessa Serracchiani, di Enrico Borghi, Chiara Braga, Roger De Mene, che è Franco Vario. Gli echi del provvedimento romano sono arrivati anche a Torino. Così il consigliere regionale Alberto Prioni, sulla scia di quanto detto ieri dal collega Enrico Montani, torna ad intestare alla Lega la paternità dell'ordinanza. Prioni dice assurde restrizioni, eliminate grazie al pressing della Lega. Una vittoria che abbiamo ottenuto battendoci per una giusta causa sia a Torino sia a Roma.